Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 e prevista neve tra Firenze e Bologna, ricordiamo l'obbligo di catene a bordo o dotazioni invernali. In A11 segnaliamo la presenza di mezzi spargisale tra Prato Este e Monte Catini verso Pisa, possibili rallentamenti. Prudenza per vento forte in A1 tra Abadia e Aglio e in A12 tra Pisa Centro e Rosignano. Arriviamo alle statali sulla statale 67 Tosco Romagnola, nevicata in corso tra Passo del Muraglione e Rocca San Casciano. Troviamo rallentamenti per neve anche sulla statale Trebbisti Berina e 45 tra Val Savignone e Quarto. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, ricordiamo che le biglietterie di Campiglia e Orbetello quest'oggi sono chiuse al pubblico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!